Ogni tanto sento persone che arrivano a giustificare l'operato di Putin, ma io mi chiedo, ma non vi vergognate, ma non è che adesso puoi dire, ah ma l'informazione è deformata, ma qualunque, diciamo, ci sono reporter che stanno testimoniando dello scempio che stanno facendo a Kiev e in tutte le altre città dell'Ucraina, bombardando veramente dei centri che non c'entrano nulla, che sono zone residenziali, palazzi, condomini, più di 3 milioni di profughi, di persone senza casa che devono scappare perché vengono devastati dalle bombe. E c'è qualcuno che giustifica ancora Putin. Io ogni tanto sento, o nei social, qualcuno, eh sì ma Putin qua e là, Putin su, Putin giù, grande Putin ha fatto questo, ha fatto quello. Ma cosa ha fatto? A parte il fatto che neanche prima aveva fatto tanto tanto di buono, insomma, visto che aveva fatto eliminare un sacco di avversari politici, avvelenarli, eccetera. Ma al di là di quello, ma quello che sta facendo adesso non è giustificabile. Forse è stato anche un santo fino a ieri, quello che sta facendo oggi è veramente qualcosa di inqualificabile, indecente, non è giustificabile in nessun modo. E mi stupisco che ci sono ancora persone che in qualche modo tentano di giustificare l'azione che sta facendo. Non è giustificabile, non è giustificabile quello che sta facendo. È una vergogna appoggiarlo. È veramente una vergogna. È perché i morti dell'Ucraina urlano vendetta, stanno gridando vendetta. E i morti, ma non soltanto, anche le persone che sono sfolate, che devono andarsene dalle loro abitazioni, che stanno cercando cibo e non lo trovano, che devono affrontare dei viaggi che non sanno se riusciranno ad arrivare o meno, avendo perso tutto quello che avevano. E qualcuno dice ancora, eh sì, beh, ma le altre guerre, nessuno giustifica nessuna guerra. Ma questa che è alle porte di casa nostra, è una guerra che non ha veramente senso. E in Russia neanche si può parlare, si rischiano fino a 15 anni di carcere se uno parla della guerra. Come dire, ti mettiamo in carcere se dici che la neve è bianca. Perché per loro è un'operazione militare speciale. Cosa c'è di speciale? Non lo so. Ma è veramente una... cioè io veramente mi... cioè, inorridisco quando sento qualcuno che arriva a giustificare Putin. Ma vergognatevi, vergognatevi. E iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti. Vergognatevi. E iscrivetevi al mio canale.